Ecco siamo qui di fronte al Capenidrata Hotel e ora faremo un video non siamo molto distanti dal Market Village e neanche dal centro qui di fronte abbiamo un altro hotel grande che è il Plaza e ora faremo un video di questo hotel questo è l'ingresso principale ecco questo è l'ingresso principale ecco questa è la hall la zona check-in ecco qui andiamo verso le stanze la swimming pool e il beach queste sono le stanze ecco questo è l'ingresso poi agli appartamenti lo stiamo per arrivare nella zona piscina ecco questa è la zona piscina dove non possiamo più filmare ecco qui stiamo uscendo verso il mare ecco in questo hotel l'uscita dal mare ha ancora una piccola spiaggettina nonostante che oggi si sia un po' di alta marea ecco qui siamo fuori ecco con queste immagini di questo Capenidra Hotel terminiamo questo video grazie